Il gol al volo di Amparo Prestata da Vanin il tunnel di Viera Adesso il pallone ancora per Vanin che va a concludere Ma c'è la parata provvidenziale 8 e 9 al Palagames di Roma Mentre Selin si accentra, si decentra Adesso il tentativo fermato in spaccata da Gaillardo Lancio lungo a cercare Amparo Che mette il turbo, arriva sul pallone Lo tocca con l'esterno e c'è Di Biase In Montesilvano, ottima la chiusura della numero 12 Gaillardo se ne va in velocità proprio a Vanin Taglia in due il campo ancora Gaillardo Gaillardo in percussione, il destro ed è un gol Stupendo, 2 a 0 Azione personale, il raddoppio Del Montesilvano Che in questo momento sta scambiando con Dincecco, anticipata però di nuovo Viera Scambio corto con Guti che calcia, botta sicura Due volte, la seconda è larga E una cagliari sestari, Nona Doppio passo al limite dell'area Pallone per Viera che calcia all'angolino Contropiede della kickoff 3 contro 2, Nona per Viera Che va a calciare, Vanin trova il pallone In mezzo, mi sembra che il gol Sia suo Un po' meno Altra botta di Vanin Finisce a lato Ottima comunque l'intuizione da parte dell'ex capitano Il Vajadolid che adesso recupera il pallone E calcia! Disattenzione della difesa delle All Blacks Hai sentito il tifo del Montesilvano così alto Vanin Anticipa Borges Ancora Borges Vince ripalo su Viera Se ne va Borges Cost to cost Va a calciare In caduta Però la kickoff Che adesso ci prova con Viera Per non anticipata Il contropiede Amparo Contro di Biase Amparo a sinistra Per Gaiardo Che in spaccata Mette dentro il 4-1 Lascia lì ad Amparo Che può calciare col mancino Lo fa Con un tuffo acrobatico Di Biase 4 contro 3 adesso Sta rientrando Da Rocia Sulla sinistra Viera Destra per Nona Che va a calciare C'è il miracolo Miracolo di Sestari Dopo l'anticipo di Nona Adesso Vanin Chiamata in causa Sulla destra Esplode Il tiro Amparo Per Gaiardo Si chiude Spendentamente Il triangolo Amparo in velocità Se ne va E un gol pazzesco Sire della coscia Viera Che deve stringere i denti Mancano due minuti E si sta per inventare Un gol pazzesco Già Sono solo due minuti Al termine Guti lo fa in questo momento Spaccata Da parte di Sestari Tre secondi Tutti in piedi Al pala Santa Filomena La butta via Guti La sirena Il Montesilvano E in finale Contro la Salinis